Per piacere gli ausiliari al traffico, pace in dentro per piacere, cercate di avere un attesamento un po' marziale per cortesia, cercate di dare una bella impressione. Buongiorno, ben arrivati, cerimonia sobria per le disposizioni del Covid, la facciamo in forma statica. Oggi consegniamo alla cittadinanza una cattedrale nel deserto che era ferma, e ne parlavo prima con il ministro del traffico, dal 2001, finalmente possiamo aprirla e consegnarla alla città. Ringrazio SST per i lavori che ha fatto e ha reso fruibile questa struttura come una somma per sistemare dei lavori che erano necessari per poterla aprire. Ci sono 60 posti macchina disponibili per la cittadinanza, alcuni ancora disponibili. Ringrazio anche l'Associazione Nazionale Carabinieri per aver contribuito, a loro sono stati anche assegnati dei posti auto in disponibilità per essere qui presenti con noi, anche per fare da presidio alla piazzetta che è stata ristrutturata e che è un valore aggiunto a questi immobili. Quindi sedite, era un pezzino anche, io procedo, voilà!